Spacciavano cocaina a casa nel quartiere Santa Rita, in tutte le ore del giorno e della notte. Un senegarese di 32 anni, incensurato, e un gabonese di 29 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di droga. È accaduto nella mattinata di mercoledì 19 febbraio in Via Frinco. Dopo aver raccolto diverse testimonianze da parte dei cittadini, che lamentavano un continuo via vai di ragazzi e ragazze da un appartamento di Via Frinco, i carabinieri hanno atteso che uscisse uno dei due occupanti per entrare nell'appartamento. Il inquirino si è precipitato in bagno e ha buttato la cocaina nello scarico della doccia. I militari hanno sequestrato, oltre 8.000 euro in contanti, diversi sacchetti con tracce di cocaina. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Segnalare ogni situazione sospetta è il miglior contributo possibile per rafforzare la sicurezza.